E salve a tutti amici, mettiamoci comodi e ascoltiamo questo video che si apre con la notizia che vi ho già anticipato, finalmente una bella notizia, cioè che parte, decolla la commissione di inchiesta, perché sapete tutte le polemiche che c'erano state per gli emendamenti presentati, la politica che si era fatta avanti dicendo no, ma allora facciamo pure quella commissione, perché non è partita quell'altra commissione, allora cambiamo il nome, non mettiamo commissione per Denise, ma mettiamo commissione generica per i bambini scomparsi. Finalmente qualcosa è cambiato, qualcuno fosse intervenuto, si sono riuniti, hanno detto basta e hanno raggiunto l'accordo, tutti i 20 deputati, quindi da gennaio avranno pieni poteri esclusivamente sul caso Denise. Finalmente noi non ci dobbiamo solo mettere nelle mani di un PM con tutto il rispetto, ma siamo nelle mani di 20 deputati che avranno l'onere di poter prendere tutto e insieme anche con l'ausilio di altri collaboratori che vorranno, quindi abbiamo una squadra di 20 più tanti altri collaboratori che esamineranno tutto quello che loro riterranno di dover esaminare, di ascoltare, di coadiuvare il PM. È una notizia secondo me sensazionale che giunge poco dopo la archiviazione per Anna Rodona. E beh, qualcuno già esultava come se fosse stata chiusa tutta l'intera vicenda, non si chiude proprio niente amici miei, non si chiude proprio niente. Anzi, questa è una delle più belle notizie perché qua noi parliamo di una commissione di inchiesta parlamentare molto articolata, quindi è che ti dà conto di tutto, del passato e del presente, delle nuove intercettazioni intercettazioni, delle vecchie intercettazioni. E ti dà conto probabilmente, molto probabilmente, anche di quello che dirà la dottoressa Angioni adesso, fra poco. E sui social si legge la soddisfazione di chi ha veramente a cuore questa vicenda. Sulla pagina social di Piera Maggio, curata da Mary Falco, si dice grazie, grazie vi giuro che sto piangendo grazie a tutti coloro che non hanno mai mollato e certamente noi non molleremo. Quindi questa è una grande notizia che si esposa, ahimè, contro la notizia dell'archiviazione. Però quella, diciamo, di ieri, notizia di ieri, è che si è persa una battaglia, ma non si è persa la guerra. Perché, vedete, non è stato chiarito quasi nulla. Perché all'inizio l'opposizione di Piera Maggio era basata soprattutto sulle nuove intercettazioni che erano state verbalizzate dai carabinieri di Trapani. E non risultavano, poi risultavano. La GIP Sara Quittino diceva no, ma non risultano, poi risultano, li consideriamo, non li consideriamo. Alla fine sembrava che li avesse in considerazione. Ecco perché quando qualcuno mi dice, ma tu avevi detto che avevi informazioni in tal senso, e certamente erano così. Perciò mi sono molto meravigliato, perché le mie informazioni dicevano appunto che il GIP aveva prese in valutazione le intercettazioni ultime, quelle di Giuseppe, Nominato, Luigi, Asparino, ed è importante. Invece non ha ritenuto. Non ha ritenuto, ma non ha ritenuto in modo anomalo. Perché al di là di qualcuno che esulta come Carmelo Abbate, incredibile, qua nessuno ce l'ha con nessuno. Però ha scritto il GIP sostanzialmente che allo Stato si proscioglie, diciamo, in istruttori perché non ci sono gli elementi bastevoli, ma che conviene pure all'accusa, diciamo così, perché se con questi elementi, lei riteneva che con questi elementi si andava a processo, probabilmente Anna Corona sarebbe stata assolta e poi non si poteva più fare un nuovo processo. Invece, ascriviando adesso, lei dice, magari emergeranno nuovi elementi e quindi è meglio per l'accusa. Vedete, è un qualcosa di anomalo, perché se tu, GIP, ritieni che questa persona sia completamente estranea, non dai queste imbeccate, questi suggerimenti. Io ve lo devo leggere, vi devo leggere. Allora, vi leggo testualmente quello che dice il GIP. Ascoltatemi bene. Allora, non sono emersi elementi sufficienti per sostenere un'accusa in giudizio. Non appare possibile allo Stato imputare all'indagata una condotta criminosa, né una condotta sufficientemente precisa in ordine al reato e alla modalità di realizzazione della condotta. Allo Stato, quale reato potrebbe essere imputato alla Corona? Si chiede. Quale reato? Ove si optasse per il sequestro di persona? Quale condotta potrebbe essere contestata? Di mandante del rapimento o di esecutrice del rapimento, cioè di aver prelevato Denise? Cioè lei si dice, dice, anche che io la voglio rinviare a giudizio per il rapimento, ma come mandante, come esecutrice, non ci sono gli elementi, nonostante che lei se lo ponga a questo problema. Poi continua, ogni ipotesi accusatoria a carica di Anna Corona appare al momento assolutamente insuscettibile di essere vagliata in giudizio e ancor meno di conduta a un'affermazione di responsabilità. E allo Stato una certa assoluzione, dice lei, allo Stato avrebbe una certa assoluzione che comporterebbe, d'altronde, l'impossibilità di procedere ad altre indagini nei confronti dell'indagata. Vedete? Questa è una cosa inverosimile. Cioè lei dice, attenzione, io vi sto facendo quasi un favore, tra virgolette, perché con questi elementi ritengo che l'accusa non sia forte e quindi si porti a una assoluzione di Anna Corona e poi non potrebbe essere processata se emergono elementi nuovi. Per me questa è una cosa un po' strana, non si è mai vista una cosa del genere. Poi continua. Interesse della magistratura e continuare a indagare procedere all'archiviazione non significa abbandonare ogni speranza o concrete possibilità di far luce sull'andamento dei fatti. Anzi, come sottolineato dal PM, è interesse della procura e interesse della magistratura nel suo insieme, perseguire la verità e continuare a indagare laddove auspicabilmente emergano ulteriori elementi suscettibili di approfondimento per comprendere cosa sia accaduto a Denise e perseguire penalmente i responsabili del suo sequestro. Quindi lei si augura che emergono altri elementi di approfondimento perché alla fine il movente che è stato cristallizzato dalla Cassazione, questo volevo dire a Carmela Bari, il movente cristallizzato dalla Cassazione e lui ha ragione, vabbè, fino a questo momento di dire che non sono emersi quegli elementi proprio probatori 100-100, però voglio dire non è che qua uno si sveglia la mattina e comincia a indagare su una persona, quindi giustamente ci si chiede, il GIP si è trovato di fronte, a suo modo di vedere, a una difficoltà di imputazione, imputazione, dice io che cosa devo imputare? Posso imputare di omicidio? Certamente che no, di sequestro? Ma in che modo? Lei a quell'ora è provata che stava lì? No, come mandante non ci sono le prove, allora lei dice non conviene nemmeno all'accusa, certamente, e conclude in questo modo, si ritiene fermamente che sia compito della magistratura vagliare con scrupolo ogni pista percorribile per la ricerca della verità e quindi perciò aschivia. Aschivia sul presupposto perché l'apertura comunque era stata fatta per quella segnalazione di questi conici romani che poi si sono rilevati dei millantatori e vabbè, ma non è su quello che bisognava focalizzare l'attenzione. Quindi io credo che non è come dice Carmelo Abate, è frutto secondo lui di un'azione isolata, di una persona che all'improvviso ha preso la bambina e la bambina se n'è andata, quello è un paese, è un paese dove tutti vedono tutto e tutti sanno tutto, chissà quanta gente sa e si vuole far passare che uno così, uno qualunque l'ha presa, no, è frutto di un odio di una famiglia allasgata, di una connivenza con la piccola ma la vita locale è sin senz'altro, ma io non credo assolutamente che bisogna scomodare gli altri prelati, gli altri politici italiani o la mafia, quella del gota della mafia. È inutile che poi qualcuno, non lo so, l'amica Paola mi ha detto, sorprendendomi delle cose, diciamo allora tu difendi i mafiosi, i delinquenti, ma ha detto cose per cui veramente mi ha sconvolto questa pochezza di riflessione, veramente non me l'aspettavo. E oggi a pomeriggio 5, niente di meno, Carmelo Abate ha dato il meglio di sé sfocandosi perché poi non aveva ancora saputo evidentemente che era partita la commissione di inchiesta. Allora dice, questo non è un punto della situazione, è un punto e basta. E finisce questa tortura mediatica a questa donna. Io mi vergogno di vivere in un paese come questo, un paese dove si fanno le indagini, un paese dove esiste la magistratura in un senso o in un altro. E' stato un atto estemporaneo per cui dovete lasciare stare questa persona e poi quasi deride il processo all'angione, al di che adesso è chiamata alle sue responsabilità. Andiamo piano, vediamo, vediamo. Io non voglio insistere su nessuna pista in particolare, certamente il movente è indicato dalla Cassazione. Ora, giovedì, senza altro l'angione dirà, perché non credo che lei si sia studiato tutti quei fascicoli, se li sia studiate così, per niente. Quante cose si sarà appuntate, quante riflessioni? Certamente ha fatto anche delle uscite a vuoto, delle uscite infelici, questo è vero. Ha pensato di individuare la bambina in persone che non erano, ha buttato i sassi nello stagno, come dice lei. Però qualcosa ha smosso, ha smosso le coscienze. E quindi io mi aspetto degli spunti che possono essere raccolti sia dal PM, che comunque continua le sue indagini. Attenzione, nessuno dovrebbe gioire perché si ferma un'inchiesta. No, nessuno deve gioire. Perché quando sparisce, soprattutto una bambina di circa quattro anni, in un paesone, insomma, della Sicilia, non si può dire come fare a Carmelo Abate, no, ma forse per passato qualcuno e se l'è presa un singolo così tanto persa. No. Questo non può essere. Questo non può essere. Quindi io ho ancora fiducia, certamente, che chi di noi non si aspettava almeno la prota. Io su questo non sono d'accordo, perché capisco l'obiezione della dottoressa Guitino che dice che con questi elementi poi magari si va a un processo, c'è la soluzione perché non vi do prove, prove, e poi magari non si può fare di nuovo un processo. Però se si fosse dato magari tipo sei mesi di protoga delle indagini, allora in questi sei mesi, vediamo cosa dice Rangioni, vediamo i lavori della commissione d'inchiesta, e invece lei ha ritenuto di dire vabbè, io il mio compito è sono chiamato su una richiesta del PM di archiviazione su questi fatti, soprattutto sul fatto dei condici romani, io mi attengo a questo al momento, quindi chiudo il fascicolo e mando tutto al PM che PM Piscitello comunque dice io continuo le indagini, rassicura che continuerà le indagini. Certamente noi non possiamo pensare ragionevolmente che si aprano nuovi scenari, i scenari bene o male sono quelli, non possiamo pensare che all'improvviso diciamo va bene, allora non parliamo più di Anna Corone, non parliamo della famiglia allargata, non parliamo di Jessica, non parliamo dell'altra sorella, non parliamo dei parenti, vediamo un po' se c'era qualche gita fu riporta in quel periodo, primo settembre, qualche turista che passava lì per caso, che magari invece di prendere un ricordino si è presa una bambina. Non dobbiamo essere ridicoli su questo punto qua. Quindi io ho letto tanto dolore nei vostri commenti ieri, tanta rabbia, tanto dolore, tanta costernazione, afflizione, che è la mia, è la mia. Però qualcuno non ha capito bene, e mi scuso se dico questo, perché qualcuno pensa, dice adesso l'inchiesta è chiusa, quindi hanno scriviato tutto, e no, bisogna distinguere le due cose. Cioè, in questo momento, quelle accuse mosse a Anna Corona sono state ritenute non sufficientemente provate, ma non è chiuso nulla, tutto è aperto, tutto è aperto. Quindi, si ricomincia con delle integrazioni, con degli approfondimenti, ma adesso, voi pensate, ci sono 20 deputati di questa commissione, di ogni schieramento politico, quindi non è che è una commissione settoriale che mira a colpire questo o quello, sono rappresentanti di tutti gli schieramenti, che ognuno si può valere di collaboratori, voi immaginate, si crea un team, magari costituito, oltre da questi 20, anche da altre decine di persone, che vanno a cogliere, magari con l'ausilio pure dell'avvocato Frazzetta, quindi della parte civile, di accogliere degli elementi di approfondimento, come Francesca D'Amo, oppure la Pisciotta, oppure tutti questi personaggi chiave, il Galeb, la sorella del Galeb, vanno ad approfondire, perché a mio avviso, io ho sempre sostenuto, che la verità sta nelle carte processuali, mi scriveva un'amica, ma non si possono leggere, che cosa lei, a parte i permessi ci vogliono, per accedere proprio alle carte processuali, ma lì dovresti leggere migliaia e migliaia e migliaia di atti, e ascoltare centinaia di ore di registrazione, quindi ci vuole un po' di organizzazione, e chi meglio dell'avvocato Frazzetta, può coadiuvare almeno per settori questa ricerca, e io sono veramente, veramente stavolta, moderatamente ottimista, perché va bene, abbiamo chiuso un capitolo, ma nessuno, allora nessuno può dormire sonni tranquilli, se non è innocente, se uno è una persona innocente, pure che sia indagata, dorme sonni tranquilli, sicuramente, chi invece, ha la coscienza sporca, non dorme sonni tranquilli, quindi questo è arrivato il momento in cui, qualcuno che sa, adesso o mai più, magari anche in Parlamento, alla Commissione, far pervenire segnalazioni, qualcosa, adesso o mai più, questo è il senso, va bene, io vi rimando al prossimo video, appena ci saranno altre novità, comunque, questo è un bel giorno, adesso sentiremo la dottoressa Ingiuni, cosa ci vuole dire, quali sessassolini, vuole gettare nello stagno, ciao a tutti, un abbraccio, vi voglio bene,